Jack Nicholson è ormai una leggenda del cinema, una carriera durata decenni primati su primati 12 nomination agli Oscar e 3 vittorie che lo hanno reso una delle star più celebre in assoluto Ma la carriera di Jack Nicholson non è stata solo premi e feste ad Hollywood, ci sono stati anche dei momenti difficili Jack Nicholson che adesso ha 84 anni sembrerebbe essersi rinchiuso in casa per via della demenza senile Infatti i suoi vicini si dicono molto preoccupati perché non esce da quasi un anno Ha completamente tagliato i contatti con il mondo, vediamolo nel dettaglio Sigla Salve a tutti amici e bentornati all'ora del tè Dunque Dunque oggi video leggero perché è stata Pasqua, ieri è stata Pasquetta, siamo tutti un po' rintronati A proposito la settimana scorsa non vi ho fatto gli auguri di Pasqua che è maleducata Quindi tanti auguri di buona Pasqua passata perché non ve li ho fatti quindi scusate Quindi oggi video leggero è comunque un po' triste però ho cercato insomma di prendere un argomento un pochino più leggero Proprio per ricominciare al meglio la settimana poi giovedì torneremo con le tragedie probabilmente Quindi prima di cominciare come al solito salutiamo e auguriamo anche a Pampling una buona Pasqua Anche se è già passata Pampling continua con le sue offerte tutte le t-shirt a 10 e 90 Io ho preso anche questa nel frattempo del gattino che salta Sotto in descrizione trovate il codice sconto l'ora del tè per ricevere un paio di calze o calzini gratis sul vostro ordine E il link per accedere a Pampling quindi vi lascio tutto sotto in descrizione Adesso che abbiamo fatto i convenevoli non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo Jack Nicholson è nato nel New Jersey il 22 aprile del 1937 Dunque allora io ripercorrendo un po' la storia che vedremo un po' in questo video di Jack Nicholson Molto velocemente poi parleremo direttamente di quello insomma che gli sta passando in questo momento Ho scoperto che Jack Nicholson è un pazzo sostanzialmente cioè ma davvero un pazzo E infatti tutti i personaggi da pazzo che ha interpretato probabilmente cioè lui si sentiva benissimo a suo agio in questi personaggi Adesso vediamo perché Partiamo un po' dalla sua vicenda familiare che è un po' triste Perché? Perché lui è cresciuto con sua madre e sua sorella O meglio pensava che fossero sua madre e sua sorella E poi ha scoperto che in realtà sua sorella era sua madre e sua madre era sua nonna Dopo che era diventato già un attore affermato negli anni 70 all'età di 34 anni Ha scoperto cioè arriva al Time la rivista Arriva ai giornalisti del Time una lettera di una signora Che sosteneva di essere sposata con il vero padre di Jack Nicholson Quindi questa signora in questa lettera racconta che questo padre in realtà era un uomo straordinario Eccetera eccetera però appunto sosteneva di essere il padre di Jack Nicholson E che in realtà appunto quella che Jack Nicholson pensava fosse sua sorella in realtà era sua madre Perché? Che cosa è successo? Che questa ragazza, la madre biologica di Jack Nicholson È rimasta incinta a 17 anni, il padre è scappato E quindi all'epoca insomma non era proprio fantastico essere una donna single eccetera eccetera Quindi i genitori, quindi i nonni di Jack Nicholson hanno accettato di crescere Jack Nicholson come se fosse figlio loro Sembra un po' una telenovela questa cosa però sì, l'ha scoperto l'età di 37 anni E queste cose ce le rivela Jack Nicholson perché i giornalisti grazie al cielo sono ancora, ci sono dei giornalisti bravi Ecco mettiamola così, che hanno consegnato direttamente questa lettera a Jack Nicholson Poi loro hanno scritto la biografia e Jack Nicholson anche poi nelle interviste ha raccontato questa cosa Quindi diciamo ha accettato di divulgare questa cosa ma non tutto il contenuto della lettera Infatti anche gli stessi giornalisti non hanno mai detto effettivamente che cosa ci fosse scritto Dentro quella lettera parte appunto questo misunderstanding familiare Io sono in Spagna, posso usarli termini inglesi Poi la cosa che dice Jack Nicholson è che lui ha scoperto questo quando sia sua nonna che sua madre sono morte Quindi lui a un'intervista alla rivista Rolling Stone ha detto proprio questa cosa Ha detto sono sorpreso di come siano riusciti a mantenere benissimo il segreto Perché non me l'ha detto nessuno Cioè me l'ha detto questa signora, questa donna sconosciuta che in teoria è sposata con mio padre Però da come ho capito non si sono mai incontrati Ora qui c'è un'altra cosa che mi ha fatto abbastanza corridere Perché Jack Nicholson poi ha detto appunto che essendo cresciuto con sua madre e sua nonna Quindi dice che pensavano sorella madre eccetera eccetera Ha detto lui è molto fiero della sua educazione perché lui è una persona molto educata Ha imparato a rispettare le donne quindi lui è molto educato come persona Soprattutto la parte ha imparato a rispettare le donne Penso che non abbia ben capito che cosa significhi Quello che ha detto perché lui è stato 17 anni con Angelica Houston l'attrice Hanno avuto 17 anni di relazioni tumultuose in cui Jack Nicholson l'ha tradita tantissime volte Infatti lei poi ha scritto anche un libro in cui racconta questa fase della sua vita con Jack Nicholson Lei dice io ho aspettato quasi 20 anni che lui mi chiedesse di sposarmi E che mettessimo su famiglia insieme ma questo momento non è mai arrivato Perché lui ha messo incinta una ragazza giovane Infatti benché le avesse perdonato tutti i tradimenti Poi Angelica lo ha lasciato quando appunto questa donna è rimasta incinta E pensate un po' che poi la rottura con Angelica per Jack Nicholson a detta di lui È stata così traumatica che si è completamente annichilito a livello sentimentale Cioè non provava nulla per nessuno Tanto che poi si è fatto una serie di relazioni occasionali E questo mi ha fatto parecchio ridere È andato a Parigi con questa ragazza, con questa donna Mentre girava per strada a Parigi ha visto questa bellissima donna Questa bellissima ragazza in bicicletta Ha affittato una bici, l'ha seguita e si sono girati per due o tre giorni Parigi insieme E l'altra l'ha mollata dentro all'hotel Cioè è un pazzo totale, totale Infatti poi appunto lui si giustifica così dicendo che ha fatto delle cose un po' riprovevoli Perché la rottura con Angelica Houston l'aveva massacrato a livello sentimentale A parte questo ci sono stati altri eventi traumatici nella vita di Jack Nicholson Perché lui era diventato molto amico di Sharon Tate Vi ricordate ne abbiamo parlato nel video di Polanski Perché Sharon Tate è morta purtroppo all'età di 26 anni Uccisa dalla Manson Family Cioè da Charles Manson e dalla sua family appunto Chiamiamola family insomma questa combriccola di squilibrati E appunto lei era incinta Vi ricordate che lei era sposata con Roman Polanski Era incinta Si trovava a casa con degli amici E è entrata alla Manson Family e ha fatto un massacro Una cosa veramente tragica E Jack Nicholson che era diventato molto amico sul set di Sharon Tate Pensate che si è fatto prendere dei posti per seguire il processo di Manson Nella biografia di Jack Nicholson c'è scritto che Lui ha seguito quasi il processo quasi tutti i giorni Stando lì giorno per giorno sia perché era amico di Sharon Tate Ma anche perché era molto affascinato da Manson Cioè lui era affascinato dalla follia di Manson Dalla follia che si vedeva durante il processo Che poi dovremmo trattarlo il processo Charles Manson Più che la storia della Manson Family Se volete il processo di Charles Manson Scrivetemelo sotto nei commenti Perché effettivamente potremmo trattarlo Per la sezione di un temperature Fatemelo sapere sotto nei commenti Quindi sembra quasi come se lui avesse preso poi l'ispirazione dei suoi personaggi Come appunto Shining Come il personaggio del Joker eccetera Proprio anche da Charles Manson in realtà Quindi Jack Nicholson è molto controverso Lui dice che adora recitare Ama recitare Cioè diceva all'epoca Che amava recitare perché appunto Era l'espressione massima dell'arte Perché potevi impersonare chi volevi Quindi è chiaro che insomma Continua ad essere un'icona Jack Nicholson Quindi sì ci crediamo che ti piaceva recitare Perché era fantastico Solo che era un pazzo Era un folle Perché vi dico È ancora un folle Perché quando lui ha interpretato il Joker Nell'88 credo Nell'88-89 Ha interpretato il Joker Quando poi lo ha interpretato Heath Ledger nel 2008 Lui era piuttosto infastidito Infatti quando gli hanno chiesto Vedrai il film del Cavaliere Oscuro Lui ha detto Io non credo di averne intenzione Era piuttosto infastidito Dal fatto che ci fosse un altro Joker Quando poi Heath Ledger è morto Che l'abbiamo visto in questo video È stato chiesto a Jack Nicholson Ma secondo te Il personaggio del Joker La psicologia del personaggio del Joker In cui ci devi entrare anche con questo metodo Stanislavski In cui ti devi proprio immergere Ha contribuito alla morte di Heath Ledger E Jack Nicholson Che insomma si trova davanti Una persona che gli ha chiesto Di un ragazzo di 27 anni morto Ha risposto Io lo avevo avvertito E se n'è andato Cioè proprio con una freddezza incredibile Ha detto io l'avevo avvertito Anche con un mezzo sorrisetto E se n'è andato Quindi è chiaro che Jack Nicholson Sicuramente è un po' squilibrato Era anche un po' squilibrato Perché ha problemi con la rabbia Lo ha confermato Angelica Houston Che dice che lui Sicuramente si innervosisce facilmente E sente i sentimenti molto più forti Rispetto ad altri In maniera molto più profonda Ma lo dicono anche i giornalisti Perché i giornalisti dicono Che quando gli fanno delle domande scomode Lui si arrabbia Cioè si innervosisce La faccia gli diventa quella di un pazzo Perché inizia a Diciamo a Mordersi le labbra Gli occhi gli schizzano di fuori Cioè fa proprio paura Cioè diventa come i personaggi Che ha interpretato Un pazzo E una volta pensate Che un È stato anche accusato Per un reato minore Perché un signore Gli ha tagliato la strada Detta sua con la macchina Lui è uscito dalla macchina Ha preso la mazza da golf E gli ha sfondato Il parabrezza di questo signore Oppure un'altra volta Era in prima fila La partita dei Lakers L'arbitro ha fatto degli errori Lui è andato in faccia All'arbitro E ha cominciato a urlargli Lo sai quanto ho pagato io Per questi posti Pretendo Un servizio decente Eccetera eccetera Insomma si è proprio arrabbiato Quindi ha Dei leggeri problemi Con la rabbia Sicuramente lo rende Fascinante e inquietante Allo stesso tempo Quasi quanto i video Di Anthony Hopkins Con i suoi gatti Su TikTok Più o meno Diciamo che anche lui Secondo me ha qualche turba Però insomma Jack Nicholson è un personaggio Eccentrico Usiamo la parola eccentrica Ora che abbiamo fatto Un ripasso Così di Jack Nicholson Un po' Del suo carattere Eccetera eccetera Passiamo a quello Che è successo Perché sta facendo notizia Perché da un anno A questa parte Jack Nicholson È rinchiuso Nella sua villa Di Beverly Hills Nella urbanizzazione Diciamo di Mulholland Nella casa Che prima era Di Marlon Brando Quindi lui poi Ha ricomprato La casa a Marlon Brando E dopo vi spiego Anche perché Marlon Brando C'entra in questa situazione Cioè perlomeno Il tutto Ha creato Insomma un mistero Intorno a questa casa Quindi Jack Nicholson Non esce da un anno Probabilmente Perché ha la demenza senile Infatti lui Già dal 2013 Aveva iniziato A prendere sempre Meno ruoli Perché si diceva Che facesse fatica A ricordare Le battute Quindi un principio Di demenza senile Che lui aveva negato Ha detto Io ho la mente Di un matematico Quindi fatevi Gli affari vostri Però a quanto pare Ha la demenza senile Ed è un anno Che non esce di casa Che è completamente isolato Dal mondo Chiaramente se lo vai a trovare Sì nel senso Si sente ancora Con qualche parente E un paio di amici Ma non esce più A dare la notizia Sono stati i vicini Pettegoli Perché voi immaginatevi Proprio i quartieri americani Quelli un po' da film horror Con i vicini che ti guardano Eccetera I vicini hanno scritto A una pagina Che si chiama Non me lo sono scritto Ma credo si chiami On the road E hanno scritto Dicendo che appunto Si dicono preoccupati Perché non vedono Jack Nicholson Uscire da casa sua Da un anno Quindi proprio i classici Vicini pettegoli In sostanza Cambia lo stato Ma le cose sono le stesse Poi che cosa è successo Si è alimentato Questo mito Questo mistero Questa maledizione Della casa di Marlon Brando Perché anche Marlon Brando Ha vissuto Gli ultimi due Tre anni Della sua vita Chiuso in quella casa Senza uscire Senza vedere nessuno E Jack Nicholson Quando ha comprato Questa casa Sembra aver subito La stessa sorte Quindi si è creata Questo mistero Intorno alla casa Di Marlon Brando Anche perché Ne abbiamo parlato In un podcast Christian Brando Che era il figlio Di Marlon Brando Perché che cosa è successo Dentro quella casa Allora siccome Christian Il figlio di Marlon Brando Era un ragazzo Problematico Un ragazzo Un po' particolare Anche con dei disturbi Mentali Purtroppo dovuti Al fatto che Quando era piccolo Sua madre Che era una Tossico dipendente Per non lasciare L'affidamento A Marlon Brando Lo ha rapito E lo ha portato In Messico Promettendo ai suoi Rapitori 200.000 dollari Che poi non gli sono Stati dati Quindi questi due Rapitori si sono tenuti Christian Brando Per un po' Fino a che Marlon Brando Non è riuscito a rintracciarli Pagare il riscatto E riprenderselo E quando si è ripreso Questo Christian Non era più lo stesso Ovviamente A quanto pare Ha subito anche Degli abusi Da parte di questi Due rapitori Quindi questo Christian È sempre stato un ragazzo Molto particolare Marlon Brando Ha sempre cercato Di aiutarlo Ma un giorno Si trovavano appunto Nella casa di Mulholland Dove adesso si trova Jack Nicholson Marlon Brando Christian La sorella Cheyenne E il marito Della sorella Quindi Christian A un certo punto Prende la pistola E spara Al marito Della sorella Quindi spara Al cognato Che muore Quindi viene chiamata La polizia E lui si giustifica Dicendo che aveva preso La pistola Solo per spaventarlo Perché odiava Il marito Della sorella Perché era un uomo Violento E la picchiava Quindi voleva solo Spaventarlo Poi è partita La colluttazione E come è partita La colluttazione È partito anche un colpo Però in sostanza È morta una persona Dentro quella casa E dopo questo Insomma Marlon Brando La vita di Marlon Brando Non è stata la stessa Perché chiaramente È un episodio Molto drammatico E ha passato Gli ultimi anni Della sua vita Gli ultimi due tre In particolare Proprio chiuso E isolato dal mondo E quando Jack Nicholson Ha comprato questa casa Gli è venuta la demenza senile E si è isolato anche lui Quindi si è creato Un po' questo mito Anche nel vicinato Che quella casa Sia in realtà maledetta E quindi I vicini si sono allarmati I vicini pettegoli E invece di parlare Con la famiglia Hanno deciso Di chiamare la stampa E dare la notizia Quindi in sostanza Jack Nicholson Probabilmente Attualmente Comunque ha 84 anni Non è neanche un giovanotto E ha la demenza senile E si è isolato dal mondo Quindi è chiuso in casa E questa ragazzi È la storia Insomma Che sta passando adesso Jack Nicholson Più che altro Volevo chiarire Questa cosa Della casa maledetta Di Marlon Brando Che ci sono comunque Dei motivi Più la casualità Però sappiamo Che gli americani Sono anche molto superstiziosi Per queste cose Ecco perché Girano tutte queste voci Che Jack Nicholson Si è impazzito Non è impazzito Era già pazzo prima L'abbiamo visto Era già pazzo prima Gli è venuta solo La demenza senile E quindi adesso Si fa un po' più Fatti i suoi E i vicini Invece i fatti loro Non se li fanno Questa è la storia Quindi abbiamo ricominciato Con un martedì Un po' tranquillotto Spero che comunque Pasqua e Pasquetta Li abbiate passati bene Che non abbia piovuto Da voi soprattutto Perché Pasquetta Fisso sempre Noi ci vediamo giovedì Per un altro video Ciao